Maria Lancoli Felice Martali E' tosta questa Madonna, è fisicamente fortissima Non ha nessuna chance Eh non lo so Ora luce mia Però verrebbe ripescata si si è già ripescata dai Ali! lavora lavora dai Ali! dai Ali lavora a te sei sotto non si può dire? non poteva lì tirare perchè c'aveva il braccio quindi cosa fai doveva girarla usare la cosa per girarla dai Ali! porta Ali! chi lo prende l'Ali? Alice perchè è uscita fuori con la testa dai Ali! muovila 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 dai Ali! è il rischio che correva anche l'altra volta di beccarci lo strangolamento sta facendo strangolamento? sta provandoci ma mi fa lavorare un po' ma non c'è di no muovila Alice muovila muovila stai su muovila Ali muovila stai dritta e muovila 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 stai su muovila Ali muovila dai su! no si c'è eh no perché si fa bene 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 non riesce a fare niente da questa posizione sta cercando di alzarsi però se si alza quella la gira il piatto non riesce a fare la leva col braccio le sta facendo la leva sta provando a fare la leva e secondo me l'Alice batte perché non credo che riuscirà a tenere cos'è che può fare in questa tazza? girarsi così? ma te niente niente hai provato a girarsi dai Ali! dai Ali! a questo punto devi rischiare anche di tirare la tecnica l'altra è tanto più forte è più forte non c'è da fare l'Alice sta subendo sempre quindi quando subisci così perdi non ce la fa o riesci a fare veramente quella cosa eh vabbè ma altro si gioca Alice stai dritta attiva è l'ultimo non puoi fare nient'altro vai! prova ad attaccare eh va bene no niente 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 vai prova ad attaccare attacca Ali! non hai altro da fare gira gira insisti insisti dai Ali! no non ce la fa e l'altra che sta facendo? dai! e l'altra? così Alice così solo così ce la puoi fare così la faccia la pianta eh vabbè pianta ah questo è uno schifo ok il 4 ci do a casa cioè no non è a casa eh si per l'attacco fa un grande attacco dai Ali respira ora gli danno il 4 ci do però vedi ha sbagliato tutto se glielo dà glielo dà perdete molto guarda che cosa c'è questa è una quella quella di spalle massimo rossa eh probabilmente sì da sola non ce n'è che davide in sedia 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 Grazie.